ciao ragazzi primissimo video di questo 2021 che inizia col botto o meglio si è chiuso col botto infatti ieri sera sono diventato diamante do terra questa è una cosa che devo ancora bene realizzare perché mi sembra tutto ancora talmente irreale soprattutto se penso a tre anni fa quando ho iniziato e quando non sapevo niente né di all'essenziali né di network marketing quindi veramente una cosa ancora da digerire assolutamente però devo proprio convincermi che è una cosa che è successa davvero è successa ieri sera il 31 dicembre una data che difficilmente dimenticherò sia perché per me è una data molto simbolica perché ha posto la parola fine alla decada dei miei 20 anni quindi da oggi si inizia con l'anno dei 30 quindi sicuramente un nuovo inizio ma soprattutto perché ieri sera sono stato praticamente davanti al computer a raccogliere i risultati a raccogliere i frutti di tre anni di duro lavoro quindi sicuramente una serata da ricordare voglio ringraziare con tutto il mio cuore le persone che mi hanno dato una mano per arrivare a questo grande traguardo sicuramente il mio super team il mio sponsor yara che tre anni fa mi ha fatto conoscere questo fantastico mondo la mia famiglia che mi ha sempre supportato in questi tre anni e non per ultimo soprattutto la mia compagna gloria che in questi ultimi 15 giorni è stata veramente una santa perché sono stati giorni assolutamente di fuoco giorno in cui mi ha supportato soprattutto sopportato quindi sente il suo sostegno sicuramente non sarei qui a fare questo video adesso e ora mi rivolgo a te che stai guardando questo video magari fai già parte di do terra e stai lavorando per raggiungere i tuoi obiettivi o magari non fai parte di do terra ma stai cercando qualcosa che possa aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi a realizzare i tuoi sogni a dare una svolta alla tua vita ebbene voglio dirti una cosa con do terra è tutto possibile è tutto vero tre anni fa sono diventato consulente do terra per avere un piano b per creare un'entrata extra però onestamente ho ricevuto molto di più perché ho conosciuto gli ore essenziali che veramente hanno migliorato tantissimo il mio stile di vita ho conosciuto moltissime persone che poi ho aiutato a stare meglio sia fisicamente che economicamente ho viaggiato per tutta europa e non per ultimo mi è stata davata la possibilità di costruire qualcosa di mio di lavorare per realizzare i miei sogni che non è assolutamente una cosa da poco oggi infatti do terra è il mio piano a nel 2021 ho scelto di dedicarmi solamente a questo business per fare quello che amo come dice questo cartello che ho qua a fianco la parola chiave di questo nuovo anno per me sarà libertà che è l'obiettivo al quale ho lavorato in questi ultimi tre anni ovvero la libertà finanziaria e la libertà di tempo quindi la possibilità di scegliere come passare il mio tempo e a chi dedicarlo senza avere nessuno che mi dica cosa debba fare sicuramente per questo motivo sarà un anno eccezionale a questo proposito voglio augurare anche a te con tutto il mio cuore un super anno e che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni ci vediamo nel prossimo video ciao